Il raggiungimento degli obiettivi e soprattutto la capacità di mettere in campo dei progetti passa attraverso anche un riconoscimento. Qual è il riconoscimento? Il riconoscimento è un ragionamento, di un discorso. La politica deve comprendere che ci sono vari livelli. Il livello della progettualità, dell'indirizzo e soprattutto il livello della conoscenza della materia che passa attraverso il coinvolgimento di soggetti che sono competenti. Quindi la politica deve comprendere che per poter raggiungere degli obiettivi e per poter mettere in campo della progettualità deve coinvolgere necessariamente soggetti che abbiano competenza in materia di efficientamento energetico, di mobilità sostenibile, di energia pulita. Il futuro sono i nostri figli. Preservare l'ambiente, preservare le nostre città, fare in modo che vi sia una cultura per la mobilità sostenibile, per l'energia pulita, significa preservare la vita dei nostri figli.